Ingegneri, start-upper, innovatori. Industria 4.0 è evoluzione ma soprattutto rivoluzione, non tanto e non solo per le tecnologie abilitanti, quanto perché mai come questa volta sono le idee, il fattore umano, la capacità di ingegno a determinare il successo di questa nuova stagione tecnologica. Grazie al concorso IDEA promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Milano avrete la possibilità di presentare i vostri progetti davanti a una platea incredibile di potenziali clienti o investitori. I primi 5 finalisti infatti avranno l'opportunità di esporre i propri progetti e la propria realtà davanti alla sterminata platea di SPS IPC Drives Italia, la fiera che si terrà quest'anno a maggio a Parma. Il vincitore poi avrà dritto a un credito di 50 ore formative offerte proprio dalla fondazione dell'Ordine degli Ingegneri. Non fatevi quindi sfuggire questa incredibile opportunità per promuovere voi ma soprattutto le vostre idee.